BICI DOPATA Allora andiamo avanti caro Davide, abbiamo detto nei titoli BICI DOPATA Ci siamo, allora siamo rimasti veramente sconvolti anche noi, mai avremmo pensato che esiste qualcosa del genere Qualcosa del genere invece esiste, allora facciamo così Davide, stai sereno tranquillo Mostriamo prima le immagini, vi facciamo vedere il servizio che Federico Mattei come al solito ha montato alla perfezione E poi ne discutiamo, se ti va Io sono d'accordissimo Bene Quando si dice un corridore va come una motocicletta, le biciclette truccate esistono e noi oggi abbiamo una prova L'ho provata, vi posso dire che se io corressi con questa bicicletta potrei vincere dall'età per il Giro d'Italia nonostante io abbia 50 anni E adesso vi facciamo vedere il meccanismo Spingendo questo bottone si aziona il meccanismo Come vedete la bici è apparentemente uguale a quelle tradizionali Vai Vedete? Va da sola Non si ferma più, anzi va sempre più veloce la ruota E adesso spingendo questo tasto posso bloccare la pedalata assistita Come funziona questa bicicletta? C'è una batteria nel tubo vicino alle piedivelle, non si vede assolutamente niente e quando tu pedali e azioni questo bottoncino la bicicletta ti parte, è una roba impressionante Ma qual è la velocità massima? Io penso che io potrei andare 60 all'ora con questa bicicletta in pianura E qualche corridore l'ha usata? Chi ce l'ha data questa bicicletta ci ha detto di sì Sembrava... è vero Esiste davvero? Io non ci credevo Nemmeno io Siamo riusciti proprio tramite conoscenze a sentire, a provare questa bicicletta Naturalmente chi ce l'ha fornita non vuole assolutamente farsi riconoscere E anche la bicicletta l'abbiamo dovuto un attimo nasconderla Io l'ho provato, ho fatto un chilometro, andavo ai 50 all'ora senza nessuna fatica La bicicletta pesa 9 kg e 500 grammi e azionando quel bottoncino la bicicletta ti parte da sola Davide vogliamo dare anche un altro dato Che questa bicicletta esiste dal 2004 Questa bicicletta esiste dal 2004 e chi ce l'ha data ci ha confermato che qualche professionista l'ha adoperata E questo mi fa pensare Ma cosa significa? Significa che uno può vincere senza particolari difficoltà perché ti dà un vantaggio straordinario, enorme Tu vuoi dire che un corridore professionista o più corridori professionisti hanno avuto la possibilità di salire in sella a una bicicletta tipo questa e affrontare una gara? Sì, questo ci è stato riferito, io l'ho provata, vi posso garantire che non si vede assolutamente niente E vi posso dire che quando spingi quel bottoncino a destra la bicicletta parte e va da sola E non si vede niente e non si sente niente Vabbè, senza parole Andiamo avanti